Questo video è offerto da un gioco permessivo per Abelino, poi direte che in quel tempo ha avvitato il percorso il percorso tecnico, che secondo me però c'era sulle proteste e nel secondo tempo è stata una dettaglio permessivo. Quindi di consomenza un'opera molto più dura, però quello che mi spiace aveva avuto la palla in mano per fare l'ultimo tiro che mi abbiamo preso, ma sull'ultima rimessa è stata una disattivazione di un giocatore che poi invece era preferibile fare un tiro da fuori, se si sbaglia perfetto, però potete fare così. E sull'ultimo rimesso, una grande difesa, è stata una disattivazione di un giocatore che ha permesso all'Ivole di prendere la palla e la colla della cina canese, due cose che hanno sicuramente in quel momento risolto la partita, quindi lui è veramente ingenuita la ingenuita diciamo. Quindi lei mentre il ritaglio sia stato un po' complessativo? Assolutamente sì, c'era un tempo che mi chiedeva complessato sicuramente quello che forse ha dato in più a noi, ma erano falli per proteste e alla fine purtroppo sono una proteste che ha fatto, come ha fatto il nostro cattore, come ha fatto il nostro cattore Torgi che ha fatto una protesta per fare tecniche anche lui, quindi di sicuro nel secondo tempo ha complessato quello che forse ha dato più a noi, ma che non so se ce l'ha dato in maniera così, questo non credo. Invece aarno ha momenti dove tutti sei stato avanti, sono sempre più belli le versi, questa partita... una paracanese questa, una paracanese, una paracanese, una paracanese, una paracanese. Abbellino secondo me ha la potenziale per essere tra le prime quattro campionati, perché stiamo ora nascondendoci. La squadra ha fatto comodamente nel pilota per andare nel pericolo. Questo è l'obiettivo di Abbellino, perché la sua statica, invece, da tutti quanti ha detto di lavoro in Italia, si sa che Abbellino, uno delle squadre che funge, è andato in pericolo. E ha la potenziale per fare. Dunque, sapendo che non siamo una squadra del pilota per il pilota, siamo sicuramente, le loro persone di classifica non sono state anche primi, ma credo, in maniera supremamente anche per noi, non siamo una squadra del pilota per il pilota. Abbellino è, sempre tutti i fatti ha fatto una buona partita, punta a punta fino alla fine, giocavano con buon attesamento, su un campo difficile, contro la squadra che sta entrando in condizioni. Quindi sinceramente chiudere la prima quadra a Bellino potrebbe essere veramente una squadra superiore a quella che siamo in questo momento. Siamo una buona squadra ma non abbiamo il sicuro di mezzo che è il quadro a Bellino e il cuore del nostro gioco. Perché non siamo una squadra di primissima faccia, siamo una buona squadra che cerca di fare delle buone partite ma contro la squadra di questo livello ma onestamente il biciclo della prima secondo me era abbastanza difficile nel senso che la squadra a Bellino è un giocatore di grande classe passando qua adesso Einstein, un giocatore che ha giocato negli anni che si permette di tutta la macchina. Insomma non ce lo sogniamo, questo è il concetto. Quindi la squadra a Bellino è super, per me è veramente una squadra eccellente, abbiamo fatto una buona gara per stare in partita e purtroppo alla fine qualche episodio, qualche ingerità, mi spiace perché veramente per un paio di ingerità alla fine abbiamo preso qualcosa che se avessimo preso non avremmo dato nulla. Più della prima secondo me a Bellino non è facile perché secondo me se non mi risulta che la vita Huckett qua due o tre canestri in firma stiamo a fare un giocatore che si chiama Daniel Huckett se va a Milano viene ma se va a Nellino. Tu l'avevi detto in settimana, Bellino è forte sotto Canestro, lì che forse è il dubbio di Pepp? Noi abbiamo purtroppo sofferto molto l'imbalzo d'attacco sicuramente, non ci abbiamo adorato, tra l'altro giocatore ci ha adorato ma purtroppo uno fatto non riesce a fare, non è che lì di sicuro soffriamo contro una sbattura a Bellino così forte, così energica sotto Canestro. Abbiamo subito qualche ribalzo d'attacco dopo una buona difesa, dopo una buona difesa dove hanno stato loro fatto i tiri e poi troppo non riesce a fare un'esergo nel pazienza.